Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Troverete qualche affinio da asciugare, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore della vita. Libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà. Ora però sapete è arrivato quel momento, subito la vogliamo, libertà. Grazie a tutti. Quello che domandiamo è libertà. Quello che non ci occupa è libertà, quello che rifiutate è libertà. Ora però sapete che arriva il tuo cuore